Stiamo facendo la ripresa dietro alle quinte di Thunder Music Radio Qui è dove noi prepariamo sia il jingle, le dirette Aspetta, vuoi un pochino più di bassi? No, 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 anzi Basta leggermente che almeno non fa molto casino Vai, parla Aspetta, vai così, prova Ok, prova come se... aspetta Un saluto agli amici di Facebook e di Youtube Ciao a tutti, vi raccomando, seguiamo la pasta Cosa fate stasera? Stasera suoniamo al Colossal Mod Club di Montecchio E benissimo trovare in tantissimi e vi aspettiamo Quindi, chi è che suona e chi è che viene suonato? In questo caso viene suonato Suti Sogniamo dalla mezzanotte e mezza fino all'uno e mezza nel bunker Che è una stanzetta a parte E lo special guest invece della serata sarà... L'Oxitec Ok Quindi ci manderete un video? Sì, 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 faremo tanti video E niente E li postiamo sulla pagina Youtube? Sì Anche su Facebook Quindi Mettete mi piace la pagina sia Tandamusecredio che NikiStuJ Mettete un mi piace e un mi piace soprattutto sulla pagina di Caster dove si ascolta la radio Ricordiamo l'applicazione per ascoltare la radio sul cellulare ed è Podcast Ah, non lo ricordo È il bello che non mi ricordo nemmeno io Prova ad aprire sul cellulare, ce l'avevamo? Addiction, giusto? Sì, sì, colì Podcast Addiction Sì Eh, finisca perché è l'adaptata Ok Quindi come vedete noi qua stiamo lavorando per fare dei jingle E preparare la diretta Ah, una cosa ragazzi Stasera c'è una serata speciale del nostro ascoltatore Sì Ron Weasley Che fa Lascia Il suo Compleanno Ok Cosa gli dite? Passiamo tanti auguri Vediamo di togliarlo in post E Diglielo pure a lui, fagli togliere le cuffie Se no Devi dire auguri a Ron A Ron Oggi è compie gli anni Italiano, inglese Inghilese Happy birthday Happy birthday to Ron By Nick is the DJ And They're on the studio on of TMR Da dove? Da From Bottega Italy Ok Dopo ne facciamo Dopo ne facciamo